Ora viviamo in un tempo in cui il livello di violenza è molto alto. Dovete cercare di equilibrare questo. Questo è quello che dobbiamo cercare. Dovete vedere qual è il tempo e quali sono le sue esigenze. Ha bisogno di un altro pazzo? No. Ha bisogno di distacco, ragione, facilità, eccetera. Questo è quello per cui voglio che diventiate famosi. Essere gente cool. Facili. Facili, Facili. 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 Grazie a tutti.